Sai una cosa? Sei tu quello che mi fa pena. Mi è sempre fatta! Ho sempre cercato la spiegazione del mio comportamento ed ora ho capito la risposta! Quello malato sei tu! Tu! Sai? Per ironia, anche io sono un opticoco e per tutta una volta per questa professione regalandomi quel libro di Freud, ricordi? Con quel tuo bel discorsetto di aiutare gli altri! Non sei nemmeno dentro! Fermati! Di pronunciare quella parola! È l'animo sporco! Come forte sono le tue azioni succole! Dunque, grazie per l'inno! Come lì mi hai aiutato a non diventare come te! E grazie per mia madre! Hai fatto passare gli ultimi anni della tua vita chiusa in un fattoso vericomio! Ora, ora basta per raggiungere! Fammi un favore se hai le palle! Fammi un favore se hai le palle! Quando arrivi da lei! Chiedile almeno scusa! No! Ti stico vende! Dio! Mi sono lavorato! Mi sono lavorato! No! 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 Rispondi! Mi sono lavorato! Mi sono lavorato! Mi sono lavorato! Mi sono lavorato! Tranquilla! Ti porto a prendere il gelato! Dopo andiamo anche al panico! Tranquilla! Ora mi passi la nonna, tesoro! Ciao Giovanna! Voglio dirti che tardo un po', molto alla fine! Ciao Giovanna! Salute buona sarebbe! Ciao! Io non voglio assomigliarti! Non voglio far sospire qualcuno per casa mia! Anche se una carogna come te meriterebbe di essere ammazzata come un porco! Ringrazio di ogni giorno per non essere diventato come te! Salute! Salute! Non sono per niente sorpreso di questo quaderno! Sono umiliato come ti attaccherebbe le spalle! Spara! Forza! Spara! 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 Completa la sopra! Dima mia mamma vorrebbe sparami! Ti vorrebbe la pistola in mano! Ringrazia solo tu e la nipote! E' solo per lei che l'ho fatta! Non merita di sosprire per casa tua! Sparami cazzo! Spara! 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 Non riesci neanche a farti giustizia da solo, sei solo un codanno. Non mi fai compassione. Non ci riesco, non ce la faccio. Non mi fai preoccupare, ci sei io, comandante. Ora è via. Non mi fai preoccupare, ci sei io, comandante. Non è vero? Non mi fai preoccupare. Non mi fai preoccupare, ci seiupare di ripresa. Non mi fai semplice. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.